Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video! Buon lunedì e buon inizio di settimana con la serie di sopravvivenza! Ci ho messo mezz'ora a fare l'intro perché volevo essere quasi perfettamente centrato con la linea che separe due blocchi di vetro e mi sono appena reso conto che ho perso un sacco di tempo per fare sta cosa, ma spero abbiate apprezzato! Intanto, la notte se n'è andata via da sola, credo, è arrivato il mattino, sì, ma anche questa volta la meme persiste perché avevo iniziato che era notte, è appena sorto il sole, che bello! Ragazzi, oggi faremo dei progressi importantissimi per quanto riguarda il castello giapponese Ma prima vi devo far vedere una cosa che potrebbe sia farvi felici che spezzarvi un po' il cuore Potreste averlo già notato, ma raga, è scomparso qualcosa La vecchia stazione dei minecart e mi hanno suonato al citofono La vecchia stazione dei minecart nel mentre il corriere porta pacchi a casa Perché questo? Perché i minecart non li usiamo più da un sacco di tempo E di fatto i binari sono molto ingombranti E uno di questi binari passava sotto la base e arrivava fino a qui Ma era diventato praticamente superfluo Quindi non c'è più, e inoltre sono andato a togliere altri binari E in questo momento ho tolto tutta la tratta che attraversava qui E abbiamo solamente i binari che non, diciamo, attraversano la base Ma che vanno esternamente o direttamente sotto di essa Come quest'altra tratta che invece mi piacerebbe mantenere in qualche modo, ma devo pensarci Quindi quello che vi chiedo è un like per onorare la tratta dei minecart Che era diventata inutile, ma un tempo ha servito e ha servito bene Un tempo la usavamo davvero Inoltre, ragazzi, qua dietro vi faccio anche vedere che ho di nuovo aggiustato Il dannato ponte che si continua a spaccare Ma adesso l'ho aggiustato di nuovo e mi sa che per un po' lo lasceremo così Credo che il problema sia relativo ai tic Devo fare un nuovo metodo di innesco per attivare o disattivare il ponte Però l'ho rifixato, sono stato bravo Intanto tra una clip e l'altra mi sono accorto che si sono di nuovo disattivate le nuvole E le ho riattivate di nuovo A volte sono disattivate per un sacco di tempo e me ne dimentico Però a me piace che ci siano e che passino A parte quando ci sta in mezzo Perché danno un senso della reale altezza del mondo Quando le nuvole passano sotto la torre capisci che la torre è davvero gigantesca Quindi chiedo a voi una cosa A voi piacciono le nuvole in Minecraft? E preferite i video con o senza? Fatemelo sapere nei commenti Ma ragazzi In tutto ciò la novità più importante riguarda ovviamente il nuovo progetto La base del castello è finalmente completa E ho anche testato un albero giapponese Vale a dire un albero di ciliegio in fiore Quindi fiori di ciliegio o sakura Calcolate che io avevo già fatto degli alberi del genere che erano questi Questi alberi erano semplicemente delle querce fatte crescere normalmente Poi sono andato a sostituire tronco e foglie con altri blocchi In modo da mantenere la forma Questi alberi sono un po' bruttarelli E li avevo fatti tanti anni fa ormai Da allora ad oggi non ho mai più provato a fare un albero giapponese Ma l'altro giorno in live ho provato a fare qualcosa E al primo tentativo mi è uscito questo Che devo dire rispetto a quello È tutto un altro livello ed è abbastanza soddisfacente È molto carino Quindi quest'albero è leggermente storto E sporge dalla montagna Come vedete per la sua chioma Per rendere l'idea di petali e vari tipi di colori Ho usato sia la lana che la concrete rosa Che la concrete indurita rosa Pannelli di vetro Tappeti qui e là per fare un pochino di volume E al di sotto possiamo notare che appunto è il tronco Che dovrebbe essere della bete scortecciato Se non ricordo male Sì è la bete scortecciato O Dark Oak Questo dubbio incredibile è Stripped Dark Oak Log Ok Dark Oak Perfetto E avevo fatto anche i ramettini con le staccionate E un po' di mezzi blocchi per fare bene il tronco Abbiamo ottenuto questo Inoltre i petali sono caduti Si sono depositati In questi tappeti E ho usato il trick Dai coralli su mezzo blocco waterloggato Per dare l'idea di un cumulo di petali caduto In realtà è un corallo rosa Che non muore anche se è fuori dall'acqua Per i vedi questo trick L'effetto è molto bello Infatti mi sa che ne farò tanti altri E magari pian piano andrò anche a convertire questi Ci ho messo un secolo però per farlo Mentre per quanto riguarda la base del castello Ho finito di decorarla al 100% È stata una bella traiardata Ci ho messo diverse ore Ma eccoci qui La base su tutti i suoi strati È composta ora da vari blocchi Non più solo cobblestone Ma andesite, pietra, ghiaia Tutto alternato in maniera randomica Tra uno strato e l'altro ci sono quella blocchi Anzi scale e mezzi blocchi di cobblestone Per mitigare diciamo Il gradino che c'era prima Nella parte bassa ci sono blocchi muschiati Foglie e quant'altro Per fare una transizione con l'erba E fra finta che appunto il muschio sia cresciuto dall'erba in su E questo l'ho fatto su tutti i lati Soprattutto su questo lato qui Che è quello più grande Cioè ragazzi ci ho messo un macello di tempo A mettere tutti questi dettagli Ma ora l'intera base è perfettamente strutturata Arriva fino laggiù Anche dietro è la stessa cosa E così via Siamo pronti per buildare il castello Questo è tutto lavoro che faccio normalmente off camera In questo caso l'ho voluto fare in live Quindi tra farlo da solo e farlo in compagnia Preferisco stare un po' in compagnia Tra l'altro stasera Ci sarà di nuovo una live sulla serie di sopravvivenza E porteremo avanti il progetto dal punto in cui lo lasciamo oggi Quindi farò di nuovo il mio lavoro off camera In live alle 20.30 Il canale è in descrizione come sempre Wow Dopo questo lunghissimo preambolo Che serviva perché vi devo far vedere tutte le novità Devo andare a recuperare i blocchi Perché iniziamo finalmente a mettere le pareti dal castello Ed era ora Allora ragazzi In questo momento è arrivato appunto il momento Di prendere blocchi di acacia Di cui non ne ho tantissimi Quindi dovrò andare a farmarli Temo Ci serviranno i blocchi di concrete bianca Che probabilmente ho lasciato nella cesta della farm E quelli di dark oak Che abbiamo già portato su Quindi perfetto L'unica cosa che ci rimane da fare È procurarci questi due blocchi che vi stavo dicendo Allora per quanto riguarda la concrete Con questa mini farm La posso indurire al volo Infatti avevo già preparato un bel po' di blocchi Che ho deciso di utilizzare anziché il quarzo O altri blocchi bianchi Perché sono molto lisci E soprattutto ci danno la possibilità di fare Un look per il castello Che sembri già antico Perché è un bianco un po' sporco Diciamoci la verità Ma soprattutto essendo liscio Il blocco farà risaltare di più i dettagli Quanto riguarda la caccia Non ne ho molta Quindi devo andare a prendere un po' di blocchi Eccomi tornato ragazzi Ho luttato un po' di blocchi Non tantissimi Ma dovrebbero essere sufficienti Per quello che dobbiamo fare Allora andrò ad utilizzare la caccia Per dare i dettagli rossicci Nel primo strato del castello Quindi il primo strato avrà questi dettagli rossicci Che dobbiamo assolutamente mettere Abbiamo poi appunto la white concrete E abbiamo tutta la trafila della dark oak Che vabbè sta qui dentro Allora Innanzitutto mi servono dei bastoni Vediamo se ne avevo già craftati No Quindi li facciamo però utilizzando la quercia Che è qua apposta Ci facciamo tutti i bastoni E ci facciamo un bel po' Di staccionate Che serviranno Ci facciamo le scale Che potrebbero servire E il classico set Anche di mezzi blocchi Perfetto Qua entra in gioco una scelta molto Difficile Tra virgolette Ma molto importante Perché cambierà La forma E l'esito Della nuova base Dobbiamo scegliere sin dall'inizio Come partire con le pareti Allora Innanzitutto Abbiamo un problema Davvero semplice da spiegare Perché da una parte Potremmo decidere Allora prendo come esempio questa parete Potremmo decidere Di mettere I blocchi Che compongono la parete A filo della base In questo modo Quindi io vado a mettere Tipo questa parete fake Al momento E la parete prosegue perfettamente Da dove siamo rimasti Con la base Potremmo mitigare Mettere Blocchi di cobblestone Un po' più su Con anche più giù Se vogliamo mischiarla Però Possiamo fare o così Oppure mettere il tutto Un blocco più internamente Quindi cosa cambia? Cambiano i dettagli La posizione dei dettagli Mettendo tutto Più internamente Avremmo Però una parete Di uno più stretta Rispetto alla base E questo porterà A creare un contorno Che potrebbe essere Esteticamente Sgradevole Cosa succede poi? Che quando aggiungiamo i dettagli Abbiamo poi questa situazione Se anche questa scelta È più gradevole Alla vista così Quando andiamo ad aggiungere I dettagli sopra Ad esempio Delle staccionate Facciamo finta Succede che Le staccionate Sporgono E finiscono Sul bordo Quindi ci lasciano Una scelta O le continuiamo Finché non toccano terra O dobbiamo mettere Tipo Uno scalino Di cobblestone Per fermarli lì Quindi in questo caso Avremmo I dettagli Che escono Dalla base del castello Nel caso Nel caso opposto I dettagli Andrebbero Riempire Il blocco Mancante Forse mitigando L'effetto Del contorno E comunque Stando entro I limiti Che ci siamo Preposti Quindi abbiamo Queste due scelte Io ci ho pensato Per un po' E andremo Con la soluzione Di destra Speranzoso Del fatto Che mettendo I vari dettagli Sulle pareti Riusciremo In qualche modo A mitigare L'effetto Contorno Che è una cosa Che comunque Vorrei evitare Abbiamo fatto Tutta questa base Bella E abbiamo Lavorato un sacco Per non dare L'idea Di uno scatolone Di cobblestone E dettagliarla Se poi facciamo Un contorno così Darà l'idea Di uno scatolone Di cobblestone Quindi devo starci Molto attento Magari la parete Insomma Non deve essere Tutta così Potrebbe In certi punti Essere più larghe In altre più stretta Poi questo lo studiamo Quando iniziamo La struttura Per bene L'altro problema Molto importante Riguarda il materiale Perché io Posso scegliere Due cose In questa prima parete O di tenere La concrete Sin da subito E sovrapporci I dettagli rossicci Con la caccia In modo da Intanto prendiamo Anche queste In modo da Coprirla interamente Ad esempio Vorrei fare anche Delle botoline Devo smettere di dire Botoline Che ricorda il botulino Quindi è un'altra cosa Ma comunque Posso fare queste botole E metterle Su tutta la parete In mezzo Alle staccionate Alternando tutto Per fare i dettagli rossicci E quindi la parete è così Oppure posso andare Direttamente A fare La parete In acacia Quindi Fermo restando Che siamo Un blocco Più internamente Facciamo Tutta la parete In acacia In questo modo E poi sopra Vado a mettere Gli ulteriori Dettagli In acacia Ma probabilmente Anche in dark oak In modo poi Di ammischiare Questa cosa Al tetto Perché questa parete Ragazzi Sarà la prima A essere poi Fondamenta di un tetto E avrà L'ultimo strato Proprio L'ultimo blocco L'ultima fila Probabilmente Comunque bianca E anche in questo caso Tra le due scelte Secondo me È presto detto Andremo A destra Se devo fare Lo strato iniziale Rossiccio Tanto vale Farlo per bene Quindi ora Armandomi di grande pazienza Probabilmente anche Un sacco di materiale Perché questo non basterà Vado a fare Tutto il contorno Mantenendo Un blocco di distacco E facciamo Tutto quanto In acacia E tutto questo contorno Dovrà essere Alto tre blocchi Ok ragazzi Ho finito di preparare La prima parete Che sarà la parete Del piano terra In questo momento Come vedete Abbiamo tre blocchi di acacia E uno di concrete Sopra Dobbiamo impostare I dettagli Chiaramente Farò solamente Un pezzo Di parete Perché poi Sarà tutto modulabile E potremo riempire L'intera parete Con tutti i dettagli Quindi Quello che andrei a fare È alternare Un po' di staccionate Allora innanzitutto Dovrei trovarmi Il centro Che mi sembra Un bel punto di partenza Ok Quello è il centro esatto Della parete Quindi a partire Da questo centro Direi Di creare Un design Dove andremo ad alternare Strutture di staccionate E strutture di trapdoor Secondo me Non va tenuta L'intera parete Così Diciamo Piatta E quindi Andrei anche ad aggiungere Poi dei dettagli extra Ma proviamo prima A mettere queste cose Quindi partiamo Dalle Trapdoor stesse Per le quali Ne dovrei fare altre Quindi andiamo a produrne altre E proviamo a mettere Tutte trapdoor Su questa sezione Che potrebbe essere Di diciamo Cinque blocchi Ok Quindi mettiamo Tutte trapdoor Ci allontaniamo Mettiamo Tutte trapdoor Anche qua sotto E ovviamente Nella stessa Direzione Nello stesso modo Le andiamo tutte A chiudere In modo da avere Questa sorta di grata Sulla parete Che un po' ricorda Diciamo Un dettaglio Di trame Tutte intersecate Però vorrei Spezzare ogni tanto Questa cosa Mettendo magari Delle staccionate Invece E quindi in questo caso Mettiamo Un 3x3 Di staccionate Sempre di acacia E Andiamo in questo modo A creare Diciamo Il primo pattern Che vorrei poi andare A definire Su tutta la parete Ok Sembra essere interessante La cosa che mi piace In particolar modo Delle botole È il dettaglio grigio Che dà un po' più di colore Alla parete E infatti All'interno invece Della parte di staccionate Non mi fa impazzire Il fatto che manchino Questi dettagli Quindi Vorrei provare Invece A spaccarne qualcuna E A mettere Dei cumuli di pietra Teoricamente La base del castello È Artificiale Quindi non è che È stato costruito Nella roccia Però Magari potrebbe Comunque risultare Interessante Fare Qui e là Mettere Qui e là Dei blocchi di pietra In modo da Diciamo Interrompere La monotonia Del pattern È interessante Sì Bisogna vedere Se ha senso Perché potrebbe Anche essere Abbastanza strano Per quanto riguarda La parte alta E qua mi servirebbero Gli scaffolding Che ovviamente Non mi sono portato Andiamo a metterci anche Delle staccionate Di dark oak Perché poi sopra Ci sarà ovviamente Il tetto in dark oak Quindi direi di metterne Una sì Una no In modo anche da Andare sulla sezione Delle staccionate E averla proprio al centro Ok In questo modo abbiamo Alternato Perfettamente Nella parte delle staccionate Potremmo Andare avanti Mettendo Altre staccionate In questo caso Di acacia Che arriveranno Fin sopra In questo modo Il tetto Che poi ovviamente Fuoriuscirà Della struttura Quindi sarà più ampio Presumo di due blocchi Sarà sorretto Da questa trama Ma Non mi piace Ragazzi Così ha già una forma Più carina Tra l'altro Ho impostato Un tratto di tetto Per farvi capire Come poi verrà chiuso Il tutto C'è Troppa roba sotto E poca sopra Negli spazi bianchi Triggera un po' Il fatto che Lì non ci sia niente Magari Dei bottoni di acacia Ci starebbero bene E soprattutto In realtà Mi triggera troppo L'idea Che questi pezzi Di cobblestone Per quanto ci stiano bene Sono Sbagliati Cioè Se vogliamo dare Proprio l'idea giusta Dobbiamo mettere Magari Una scala Al centro E fare proprio Un pattern Perché comunque Questa Non è roccia naturale È una base Artificiale Volutamente artificiale Quindi avrebbe più senso Una cosa di questo tipo Che comunque funziona Non è male Ho provato a togliere I bottoni scuri E mettere invece queste scale Per dare un po' di profondità Alla parete Devo dire che funziona E devo dire che funziona molto meglio Tant'è che quasi quasi Andrei a fare la stessa cosa Anche qua Quindi anziché Insistere con le diamine Distaccionate Togliamo via Quella centrale Scavo E ci metto una scala E secondo me Esatto L'effetto è molto Più carino Ok ragazzi Dopo numerose modifiche Prove Sono arrivato a questo Quindi come vedete Ho messo Le bottole Di acacia Anche qua sopra Per chiudere i buchi rimasti Qui abbiamo La struttura Che copre I buchi Nella parete Nella parete Uguali a questi Ma sono coperti E l'effetto che viene È davvero bellissimo La scala di cobblestone Che sale Viene bilanciata Da un bottone di acacia Sotto Che allo stesso modo Sembra Una trave Diciamo Orizzontale Incastata nella roccia Fatta per Diciamo Fissare questa trave qui Quindi ha anche un senso Strutturale Se vogliamo Siccome invece La dark hawk Era troppo separata Dal resto Ho fatto giusto scendere Una staccionata Centralmente Di un blocco Lo sfondo bianco Viene coperto bene Io direi Che per il momento Ci siamo Sono abbastanza soddisfatto Da questo pattern Che dovrei ripetere Sull'intera parete Quindi stasera È live Conto di farlo Se avete i suggerimenti Passate e datemeli Magari nel corso Della giornata Non mi viene in mente Altro Ma direi che Per questa prima parte Potrebbe andare bene Bene ragazzi Allora per questo video è tutto Faremo un pezzo di castello Per volta Farò degli esempi così E poi il lavorone Di replicare Lo farò off camera O in live Perché comunque Potrebbe essere È ripetitivo Da vedere In un video Quanto meno E dopo questo strato Potrei fermarmi un attimo Per dedicarmi ad altri video Non voglio che Adesso la serie diventi Tutta basata su questo Dobbiamo dare ogni tanto Un po' di respiro Ma vediamo Ditemi anche voi Che cosa ne pensate Intanto vi saluto Che se non mi muovo A editare il video Non esce più Quindi un saluto Da Iron Blaze Ciao a tutti